Allora Riccardo Chessa, qui abbiamo l'eccellenza archeologica, sperimentale, male e male, non solo, tu sei uno dei maggiori esperti italiani. Buonasera a questo backstage di Foppe Dittelo, è stata, io mi chiamo, scusate, mi chiamo Riccardo Chessa, sono un archeologo sperimentalista e sono stato ospite di questa serata, devo dire, molto divertente e appassionante anche dal punto di vista anche artistico. Sono stati gli altri ospiti della band veramente interessanti e è stata veramente una serata che ho vissuto tutta in un fiato. Hai scoperto recentemente anche un'altra cosa, hai fatto una scoperta eccezionale per quanto riguarda un animale preistorico che è esistito nei nostri territori e che adesso appunto ce ne parlerà Riccardo. Questa te l'ha detto una scoperta in più. Ma sto retirando maremano Rex. Di più. Allora niente, allora la località deve rimanere ancora un po' toxic, segreta. Ma questa è un'anteprima, la stiamo dando adesso in esclusiva. Allora so che adesso è in, credo sia stata ultimata la fase di restauro, e la cosa straordinaria è che in un privilegio di escursione con i bambini ospiti del nostro laboratorio in un punto proprio in, che non ci aspettava, proprio impensato proprio, è uscito fuori in una scanalatura che aveva creato l'acqua, proprio un canale fatto dall'acqua, è uscito fuori una mandibola di un rinoceronte, che... Ma no... Si arriva i rinoceronti qui, che pezzo? Invece del cane ti ritrovavi un rinoceronte. E no, no? Eh? Ma c'erano piccini, i ceronti, i ceronti, i ceronti... I ceronti, i ceronti, sono quelli che ti metti ora d'età. Ah, è? I ceronti. No, no, allora, ancora è in fase di studio, però intorno a questa mandibola, poi successionalmente con la sovrintendenza e con l'università, abbiamo fatto una piccola ricerca, sono c'erano fuori altre ossa. La cosa un po' così, un po' che ci parla... Sento di rinoceronte. Allora, frammenti altri rinoceronte, ma di altra macrofauna, si dice, altra fauna abbastanza grande, altri animali grandi, che erano comunque molto probabilmente vissuti nello stesso periodo. La cosa un po' che ci ha lasciato una mara in bocca è che questa scoperta è uscita fuori grazie a delle persone che hanno costruito una pista ma molto crossa. Quindi che è successo? Questo materiale è stato trascinato per fare i salti famosi e poi per saltare con la moto e quindi non sappiamo, dovremmo scavare per capire se sotto c'è ancora un deposito... Di ossa? Sì, d'ossa. Di ossa da poter indagare e da poter scavare. Ma senti quanto è lo stesso hai imparato stasera? Io non c'erò a te, io non c'erò a te, io non c'erò a te, io non c'erò a te. Allora si può dire, eh, che vita non c'erò a te, non c'erò a te, ma io non c'erò a te. Ma io non c'erò a te, ma io non c'erò a te. Ma io non c'erò a te, ma io non c'erò a te, ma io non c'erò a te, ma io non c'erò a te. Ci sono solo piazzare i barzatti, ci sono... Ho messo a disposizione la mia esperienza, ormai ventennale, perché ho iniziato veramente presto a fare questo lavoro, il mio lavoro è proprio quello dell'archeologo sperimentalista, quindi noi siamo le persone, le studiosi che cercano, replicando oggetti, manufatti e tecniche, anche lavorative, di dare delle risposte a quello che è stato il nostro passato più antico, quindi riuscire a comprendere meglio come potevano vivere, come potevano sopravvivere, in certi casi anche popolazioni e culture un po' distanti da noi, anche di migliaia di anni. Abbiamo ricostruito nella nostra azienda un villaggio preistorico, un archeoparco, sarebbe più facile definirlo archeodromo, dove ci seguono le scolaresche un po' di tutta Italia, vengono a trovarci e lì sviluppano nella giornata tutti i laboratori, l'attività connesse all'archeologia simulativa e sperimentale. Scendono una capanna, salgono una palapitta con sotto l'acqua, entrano in una grotta preistorica, provano ad accendere il fuoco, sono queste alcune delle attività che durante tutto il giorno bambini si cimentano nel nostro laboratorio. Vi invito, non voglio farmi troppa pubblicità, è una cosa più che altro anche per conoscere magari qualche persona interessata a poter svolgere un'attività simile alla mia, che oggi come oggi sta riscontrando un buon successo perché riesce a spettacolarizzare molto quello che è l'archeologia e soprattutto anche a dare una capacità di comprensione che mancava, soprattutto nell'ambiente un po' anche, leggermente anche troppo scolastico, troppo anche universitario, appunto proprio sull'archeologia e anche sull'antropologia. Noi siamo il team degli Albori, potete trovarci in internet su glialbori.com e siamo a vostra più completa disposizione. Questa è un'ascia, giusto? Questa è un'ascia a martello, il gabbro, il gabbro è il materiale, molto duro, molto resistente. Di tappe o meno, questo siamo sui 5 mila anni, 5 mila anni, porta peso, questa è chiaramente una riproduzione, una copia, mentre questo, che cos'è? Questo è un pugnale, un pugnale, un pugnale che è la spada di bronzo, di bronzo, siamo usando la dentale, come ha fatto il cellulare. Per la piccola, insomma, metterlo qui. E' un po' con gli ureardi, di quanto anni sono passati? Anche questa chiaramente una copia, però ricordo che nel laboratorio sperimentale di Riccardo Chessa, a Santa Caterina, gli albori, praticamente si riproducono, si rifanno anche le fusioni in bronzo, addirittura fanno anche il vasellame in terra cotta, perché ci sono dei forni ricreati completamente in terra, ripostruiti e quindi con le stesse tecniche. Addirittura ha scavato, pensate, una canoa fatta con un tronco e l'ha scavata interamente con un'ascia in pietra, tipo di vista, perché doveva simulare naturalmente la stessa lavorazione che avrebbe simulato, avrebbe realizzato in quel caso lì, il nome preistorico, probabilmente, non lo so, del periodo è, del bronzo, di un litro, al percorso di sopravvivenza, questo si parte dalla fase, che fa se ne fai il percorso di sopravvivenza, o lo zai se ne metterò, e l'usso, e... qualche risposta, qualche domanda, ecco, a proposito, che cosa è accaduto quando sono venuti da te, per... se magari sono dei famosi, cosa sono... che stavano servendo... per fare istruttore di sopravvivenza, perché lui è istruttore di sopravvivenza, che esperienza è stata per questi famosi? Allora, anche quest'anno mi avevano contattato, mi hanno contattato per fare la nuova edizione, perché poi è stata fatta una parte di Maremma, Terlizzi, dove l'hanno preso, avuto il concorso, guarda Maremma, anche quelli non famosi. Infatti, è perché io ho detto di no, praticamente, perché sto facendo, insomma, dei lavori in azione... Però in passato l'hai fatto, eh? Sì, in passato l'abbiamo fatto, dal 2004 al 2008, ho lavorato a Torino per la FIS, la Federazione Italiana Sport Survival, dove praticamente lì abbiamo fatto i corsi di... 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 di formazione alle persone che poi andavano alle isole famose. Ma era, insomma, una cosa un po' una sciocchezza, insegnare ad aprire una noce di cocco, perché comunque, a certe persone non avevo mai visto un coltello, poteva essere comunque una cosa pericolosa. accendere il fuoco, mi hanno fatto vedere, insomma, le tecniche più... Ce ne sono tredici di tecniche e lui ha la possibilità di mostrare di come si può accendere il fuoco. Il fuoco è l'elemento fondamentale. Ma io ho la testa. C'è il corso, ci si va a scrivere. C'è il corso, ci si va a scrivere. No, io solo sono così statunque. La nostra terra è molto ricca. Vecchissima. È ricchissima e anche ha un patrimonio storico che va oltre l'epoca florida di Firenze e di Siena, perché è molto più antico le testimonianze che prima ci ha raccontato Riccardo, appunto, sono tali per cui il nostro territorio è un territorio che ha una storia antichissima, ha una pre-storia, che forse gli altri non hanno. Ma certo, c'è una cosa che mi viene in mente adesso veloce, che tra l'altro qui c'è anche uno degli scopritori qui in sala, che è Carlo Cavanna, perché qualche giorno fa sono stati proprio menzionati da National Geographic perché è stata fatta una scoperta straordinaria. Se non fosse stata anche per lui non l'avremmo mai recuperata questa cosa perché tutti avevamo scambiato questi pezzi di pietra per delle rocce. In realtà erano delle zanne di mammute, di elephants meridionalis e la cosa straordinaria è che durante lo scavo, fatto a roselle, quindi qua vicino, sono stati recuperati, credo siano un bel po', ma sono la quarta possibilità che abbiamo a livello mondiale, la quarta testimonianza al mondo, di un recupero, di un bastone, da scavo, da lancio, da caccia, appartenuto ad una cultura neanderta di circa 170 mila anni fa. Hanno trovato questo bastone di ligno di bosso che era stato scavato, lavorato con la seccia e bruciato sul fuoco, quindi una scoperta straordinaria che ci pone ora anche sotto riflettori di una... Allora mi fa un'ora perché vedi? Speriamo che con loro a noi si sarebbero usci un po' più grossi. Ringrazio tantissimo tutto lo staff di questa bella esperienza e un saluto a tutti da Riccardo Chiesa.